La prima delle finali lunghe per il 0, 3.000 punti finale ragazzi massi. Ma devono fare anche la finale delle primi, no? Sì. Siamo a 3 a 3 in meno sul percorso di gara. Tra breve e meno 7 lo stile della campana che arriva con puntualità. Tra breve, o perlomeno tra un giro, saremo a meno 6. Come verranno assegnati i primi punti validi per gli altri di gara. E' la segna! Vai! Primi punti validi, 0-6 dalla conclusione, tutti assegnati. Guadagnano punti il concorrente numero 33, Proverbio Thomas. E ne guadagno 1 il concorrente... Fuori dai due, fuori dai due, fuori! La mondata! ...di tutti atteggiati sul ragguardo del meno 6. Come detto, 2 punti a Faberio Thomas, numero 33, un punti per il giro del numero 137. Stiamo a 0-5. Ora punti in paio, posizione anche in punti da voi. E forse ancora... No, non ci immagini se... Si metta a piovere quando ci sta chiamando l'articolo. Cioè, più vicina... Poi inizio a diluviare quando ci sta chiamando l'articolo. Succederà con l'articolo. Guardate il tempo. Segui, la giro, segui! E' la finale, cazzo, non è la batteria. Vai, siamo! Succederà con questi punti che sono andati a segno sulla treguardo del meno 5. La media avremo 4 attivi dalla conclusione. Succederà con il meno 4. Succederà con il giro, c'è tanto lavoro di un paio di ammeti. Se non gli ammazzi è così. Guadagno dei punti, il concorrente numero 63, prima, avvidenza. Succederà con il giro, c'è tanto lavoro di ammeti. Succederà con il giro, c'è tanto lavoro di ammeti. Guarda, ci sta facendo. Succederà con il giro.